E adesso per freddare i bollenti spiriti dei maschi italiani a ferragosto a voi consigli pratici della nostra Wendy con la sua rubrica Viaggio intorno all'italiano medio Ciao, ciao Cari amici, buonasera Eccoci qua per un'altra lezione del corso di italiano della Wendy Le italiane sono appassionate, nuotatore e subacque Le subacque dividono in due categorie Le prime è questo, è il sub normale Lui vi segue ma non per guardare il fondo dal mare Di guardare vostre gambe sotto e fare il porcalona Vi invita di andare con lui a subacqua Ma attenta perché ci prova sempre Che cosa fare per difendersi da lui? Ora io vi dice Accettate il suo invito di subacqua E poi fatelo finta di carezzarlo Ma invece prendere un bel paio di forme di gruze così e tagliate E voi sarete salve E ricordate, con i consigli della Wendy Da subacqua ti difendi Ciao 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 dai confini Wendy che cosa desiderate più ardentemente dai vostri boyfriend in America? Le dichiarazioni Decorazione Oh come siete romantiche Non dichiarazione di amore, dichiarazione di retteti Oh vedi che abbiamo qualcosa in comune anche noi? Sì! Oh voi due la volete smettere con questa tetta connection? Dobbiamo collegarci con Kinder, pronto? Kinder mi sente? Ciao Kinder Ma che c'ho Kinder, con Kinder ci parlo io E le Kinder non so You know Frenare un poco E poi lasciarsi a un bel beach Sotto il sole la pelle bruci Senza fare l'app non si può star Che ci vuoi cap?